L'iniziativa promossa dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e delle associazioni Italia Nostra, la Quarta Luna, Agile e il progetto Muse Antiqua riguarda il recupero svolto nell'ultimo anno di una serie di progetti che provengono dall'archivio delle intendenze di finanza di Verona e che sono stati per fortuna salvati da sicura fine per essere poi consegnati all'archivio di Verona ed essere quindi schedati dal nostro gruppo di lavoro. Siamo stati di oltre 2.300 progetti che vanno dal 1920 al 1960 che riguardano praticamente lo sviluppo della nostra città dal periodo Liberty fino agli anni 60. Questi progetti riguardano chiaramente i quartieri periferici della città di nuovo sviluppo e anche il centro storico. Attraversano quindi anche la Seconda Guerra Mondiale che con il suo carico di distruzione provocata dai bombardamenti anglo-americani crearono larghi vuoti all'interno del tessuto urbano, ma soprattutto evidenziano il cambiamento del gusto architettonico ed estetico dal periodo Deco Liberty fino ad arrivare alla tipologia condominiale degli anni 60. La cosa più importante è che questo fondo adesso è stato schedato con criteri anche informatici all'avanguardia e che quindi sarà a disposizione delle persone che saranno interessate a conoscere anche nel dettaglio la storia dei singoli edifici attraverso un database che sarà a disposizione del pubblico e del nostro cittadinato.